Vabbè intanto facciamo il ciak 79.6 4 prima Mi metto subito al lavoro Sì un angelo Certo che Ora è sua Vai su di lei Facciamone la battata Sì infatti da quando siete vicini Sì Stai già là Stai già là Dammi un bacio Stai girato Silenzio quando volete ragazzi Alessio Azione Sì è in angelo Non è grave ragazzi Sì è vero Non è l'altro più geniale Però volevo Ho capito ma la posizione non è che un bottero Blevano i segni qua Silenzio Adesso con lui tu Azione Sì in angelo Delus salvatore Sì E' un gelino Ah beh Uno vei Trica Azione quando volete ragazzi quando Dio vuole e action un attimo sei un attimo io da venire orco di zel dai ragazzi mi sembra che qualcuno dica qui sei un angelo forse sei un qualcuno lì sei un po' più alto forse puoi scendere quando sei scavata adesso quando vuoi deciso azioni sei un angelo ma poi scusate no ma tu hai vantica scusate 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 dove vivevate un attimo due secondi di silenzio mi prego segnate che è 4 minuti e 40 di ripresa se c'è quella buona forse un attimo ragazzi per favore dai azione sia un angelo ma poi perché prendersela proprio con te mi ha fatto ridere mi ha fatto ridere lui no io ti ho fatto no ti ho fatto lo facciamo per me stop e si rifà tutto no no dai no dai no dai no dai no dai sono friso stop quello che fai dai dai matte stai calmo matte pick up questo shhh matte per favore azione si un angelo grazie ma tanto sta passando l'impossibile si ma sono distratto aspettiamo un secondo ma si ma perché siamo un po' distrattissimo sono dei scemi infatti dovremmo cercare di farle proprio dai 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 ragazzi comunque se voi potete tenete comunque la voce un po' più alta e posso dare che qualsiasi minimo rumore va bene ok no no è vero silenzio sta diventando davvero un angelo è un paradossale tutto quanto ha lavorato quattro macchine quattro macchine e pensavamo di girare a Dasti perchè è una città molto più tranquilla Enzo? vai ok grazie adesso io sbaglierò il fuoco lo sapete no silenzio non lo volete sei un angelo ma poi perché prendersela proprio con te? vabbè mi racconterai ciao 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 ciao